Decoro urbano e cittadinanza attiva, un'azione popolare degna di nota e di grande appartenenza verso il territorio. Alcuni cittadini agropolesi si sono attivati per acquistare una trentina di piante da allestire nel centro storico di Agropoli. Detto fatto, stamattina le piante acquistate spontaneamente anche da agropolesi residenti all'estero sono state depositate ai piedi degli scaloni del centro storico, in attesa che la società Agropoli Cilento Servizi li metta in posa. L'iniziativa è stata organizzata dall'agropolese Eliseo degli Paoli che attraverso un'azione condivisa con l'ausilio di un gruppo social e il supporto dei consiglieri comunali Salvatore Coppola e Gianluigi Verrone è riuscito a portare a termine. Tutto è nato dall'esigenza di abbellire il centro storico di Agropoli, ha commentato Eliseo degli Paoli. Dopo tre anni di continue richieste inascoltate al sindaco Adamo Coppola ci siamo organizzati da soli con un annuncio nel quale si chiedeva l'acquisto e l'adozione di una pianta attraverso un bonifico diretto al vivaio. L'idea ha ricevuto un grande riscontro, sentimenti di amore per la città, senso di responsabilità e condivisione di tanti concittadini che non hanno esitato a rispondere positivamente all'iniziativa nel giro di pochissimi giorni. Ringrazio vivamente tutti, finalmente una parte del centro storico riceverà la dignità che merita.